come posso utilizzare la mia silhouette e dove posso installare il programma silhouette studio è una domanda piuttosto comune la domanda che mi fate più spesso partiamo dal presupposto che i plotter silhouette funzionano con un programma che si chiama silhouette studio ma ciò che mi chiedete più spesso è posso usare il programma su tutti pc lo posso installare su tutti i computer sul tablet sull'ipad sullo smartphone allora cerchiamo di capire insieme dove è possibile installare il programma e dove è consigliato o non è possibile farlo è importante capire che silhouette studio è un programma di progettazione e ha quindi bisogno di un dispositivo abbastanza potente per funzionare vediamo insieme è possibile dunque installare il programma silhouette studio su uno smartphone sì ma non è consigliato semplicemente per il fatto che applicazione per lo smartphone quindi silhouette studio mobile è una versione ridotta del programma creato per pc e le funzioni sono molto molto limitate quindi non ci potete fare praticamente quasi male stessa cosa per tablet o ipad potete dunque scaricare l'applicazione ma come per lo smartphone e le funzioni sono molto molto ridotte quindi non riuscirete praticamente a farci quasi nulla per quanto riguarda un chromebook che è questo che vedete in foto assolutamente no perché purtroppo il chromebook non soddisfa i requisiti minimi di sistema per far girare il programma quello quindi che vi consiglio io è di acquistare un buon pc magari con una buona scheda grafica mi fate consigliare dal venditore quale utilizzare o un mac se ne avete una disposizione ancora meglio ovviamente capisco che la spesa non è esigua quindi io ho un pc normalissima hp e va benissimo l'importante è che abbia requisiti minimi di sistema che vedremo in un altro video quindi vi consiglio di guardare il prossimo video dove vi spiego i requisiti minimi di sistema per poter acquistare un pc e poterci installare sopra il programma silhouette ciao